Ciao No, non l'ho dimenticato Eccoci alla gara 6, piloti Porca troia Abbiamo 20.000 punti di distacco, porca troia 5 minuti di inseguimento con una multa di 2.000 dollari Ma a te pare che pago la multa? Anzi, fatemela più alta possibile, così me ne vado Ma a te pare che sta spiegando Questa è un bel paolo, è un po' di spagato Questa è un bel paolo, è un po' di spagato ma c'è te capace hai fatto abbastanza possiamo incontrarci c'è un percorso che dovresti fare con me andiamo porca troia ciao